Abbiamo deciso di scrivere questo libro con Marco Travaglio per dare voce ai giudici senza voce, ai magistrati coraggiosi che insieme ai giudici popolari a Palermo hanno emesso una sentenza che stabilisce che c'è stata una trattativa tra lo Stato e la mafia. Perché questo si dice in questa sentenza, si dice che la mafia decise di mettere le bombe per ricattare lo Stato. Non si potevano pubblicare le 5.000 pagine, è una sentenza sterminata contenente verbali e intercettazioni, quindi abbiamo fatto un libro. Questo sì, lo si può leggere, anzi secondo me lo si dovrebbe leggere se si vuole conoscere la storia della fine della Prima Repubblica e soprattutto dell'inizio della Seconda Repubblica nella quale stiamo ancora vivendo. Questa storia non a caso non è stata mai raccontata in televisione, non è oggetto di articoli degli editorialisti o dei grandi commentatori, dei grandi giornali italiani, perché è una storia indicibile. Ma soprattutto dicono i giudici che senza la trattativa avviata da Ross dei Carabinieri con il mafioso Ciancimino perché facesse da intermediario con Riina e poi con Provenzano, non avremmo avuto le stragi di Roma, Firenze e Milano del 1993. Trattativa iniziata nel 1992 dagli ufficiali dei Carabinieri del Ross, trattativa chiusa nel 1994 da il cofondatore di Forza Italia, Marcello Dell'Utri. Ecco, per chi voglia capire davvero quello che è successo in Italia, nel passaggio tra la Prima e la Seconda Repubblica, dal 6 dicembre in edicola e in libreria, padrini fondatori, la sentenza sulla trattativa Stato-mafia che battezzò col sangue la Seconda Repubblica. Edizioni Paper First, le edizioni del Fatto Quotidiano. È una guida molto, molto utile. Non perdetevelo.